Il 30 ottobre esce il mio primo singolo su Spotify. Non l'ho mai detta questa cosa d'alta voce. Che figata. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video, io sono Chiara e lo so è incredibile, addirittura due video di seguito una settimana dopo l'altra, chi l'avrebbe mai detto? Avevo intenzione da un po' di fare un video in cui avrei spiegato che cosa fosse successo in questo arco di tempo in cui non ci siamo visti, perché praticamente io ho fatto un po' di video in cui piangevo, dicevo che ero andata allo psicologo, che la mia vita era terribile, eccetera, e poi sono scomparsa. La domanda più gettonata da un paio d'anni a questa parte è perché non fai più video, perché non sei più su YouTube, che cosa ti è successo, dove sei andata, dove sei scomparsa. Torniamo con la mente a dicembre 2018. In realtà era già passato un po' di tempo da quando avevo fatto i video sulle mie difficoltà nel capire che cosa volessi fare nella vita, sul fatto che giurisprudenza, che è quello che studio, infatti in questo momento sto guardando tutti i miei libri impilati, uno sopra l'altro per usarli come cavalletto per il video di YouTube, il fatto che giurisprudenza appunto non mi piacesse, o nessuno sapeva effettivamente quanto fosse grave la situazione, e il fatto che io comunque prima di ogni esame, e questo purtroppo ancora una volta mi succede, uscissi totalmente fuori di testa. Crisi di nervi, nel senso piangere tipo per una settimana, e poi non andare a fare l'esame, ecco. Nel mezzo di una di queste crisi, mia mamma mi ha detto, senti, basta, non ce la faccio più a vederteli sul divano morta, così, ti porto da queste due persone che hanno una scuola di musica, e gli fai sentire le canzoni, che scrivi, al tempo, vabbè, non voglio neanche ripensare a come suonavo, e come scrivevo, e come cantavo due anni fa, non che ora io sia tanto meglio, però, cioè, partivamo veramente da meno cento. Quindi, prendo tutta la mia robetta, mi ripasso due o tre canzoni, ma andando, li accordano sempre gli stessi, e vado a conoscere queste persone. Quando vostra madre vi dice, conosco delle persone che hanno una scuola di musica, voi vi immaginate due tizi di mezza età che ascoltano i Beatles e i Pink Floyd. Tutti mi scriveranno, eh, perché i Beatles e i Pink Floyd non vengono ascoltati dai giovani, eccetera. Sì, però non so com'altro spiegare il fatto che magari sarebbero persone che non conoscono la musica giovane. Scendo alle scale di questa scuola, e mi trovo davanti due pischelletti, e gli faccio, ah, ciao, sono qui per conoscere questi due maestri, non so se li conoscete, e loro mi fanno, eh, sì, beh, siamo noi. E io tipo, ma voi avete pochi anni. Da quel giorno inizio poi a prendere lezioni sia di piano che di guitarra, questo perché i miei genitori sono fantastici in questo, mi hanno sempre supportata e finanziata in tutte le mie passioni possibili, sempre tramite appunto i miei maestri, e la scuola di musica che si chiama Arte 2O Music Academy. Ho iniziato un pochino a inserirmi nell'ambiente, diciamo a farmi degli amici, un gruppetto con cui ci vediamo tutte le domeniche, in una serata a Roma che si chiama Spaghetti Unplugged, che è una serata bichissima, secondo me, per chi ama la musica. E già a marzo 2019 mi sono esibita per la prima volta. Da lì, da questo primo live, ho cominciato a suonare quello che per me è tanto, ovviamente per un musicista affermato non è niente, però per una persona che fino veramente a qualche mese prima stava a piangersi addosso davanti ai libri di diritto, è stato un bel cambiamento. Inizialmente mi dicevano, senti vorresti suonare per caso al parchetto qua sotto, fanno una festa di cani? E io dicevo sì, certo. Oppure vorresti per caso suonare in questo locale, non è proprio a Roma, diciamo che in Abruzzo dovresti anche pagarti da sola la benzina, però ti andrebbe. La filosofia è stata molto dissi a qualsiasi cosa. Facendo così, a parte che ho conosciuto un sacco di gente con cui ho cominciato proprio a collaborare per trovare serate, eccetera, ma anche amici con cui se serve facciamo cose. Non in quel senso, cioè in un senso professionale ovviamente. Durante questo periodo i miei maestri sempre mi dicono, senti ma c'è questo concorso, ma perché non partecipi? La canzone ce l'avevo già registrata, quindi ho detto vabbè senti gli mando questo brano originale, come va va non me ne frega niente. Cioè no non me ne frega niente in senso brutto, ovviamente non verrò mai selezionata, non esisto e non sono capace, e quindi lo faccio tanto per essenzialmente. Un concorso che la Regione Lazio da ormai due anni a questa parte, rivolge ai giovani musicisti, per giovani intendo sotto i 35 anni. Una prima selezione viene fatta dalla giuria, e poi c'era una selezione in radio in cui servivano i voti, e io là ovviamente ho tipo sguinzagliato tutti i miei follower accumulati grazie a YouTube. Sono stati davvero un sacco preziosi per questo, perché se no ovviamente non avremmo passato quel turno. Che mi ha portato poi in semifinale, un evento importantissimo per me. A parte che è venuto a un botto di gente a supportarmi, questa cosa mi ha anche fatto un po' riflettere su, forse la musica non è una cosa che riguarda solo la mia sfera intima, ma posso anche piano piano allargarla, e posso anche includere persone della mia vita in quest'altro aspetto, quindi amici, famiglia. Mi sono sentita un sacco amata, ecco. Ed è stata appunto la prima volta che ho suonato e cantato insieme da sola, sia chitarra che pianoforte. Grazie a questa semifinale ho vinto poi il Canada, cioè tramite uno degli sponsor di questo concorso. Sono andata in Canada a suonare a Montreal. Dopo la semifinale c'è stata la finale, anche lì è stata una cosa fighissima, perché ho suonato in band per la prima volta, io totalmente incapace, con dei musicisti bravissimi dietro di me. Questa si chiamava Bad Last Night, non so se si era capito. Parla di una fantasia che ho fatto qualche tempo fa, molto tempo fa, e auguri alla persona perché si è appena sposata. Non ho vinto il concorso, com'è giusto che sia, perché voglio dire, cioè per essere il mio primo concorso, mi pare di aver preso davvero molto più di quanto mi spettasse. Poi ho visto i Seveso Casino Palace, che non so se voi vi ricordate, però avevano partecipato a X Factor qualche anno fa e mi piacevano un casino. Sempre con i miei maestri, Luca e Michele, bella nova, abbiamo iniziato a lavorare, anche proprio a registrare dei pezzi. Abbiamo passato davvero un'estate, specialmente con Luca, a lavorare, lavorare, a registrare tutti i giorni. E da lì è uscito fuori un brano che si chiama Eleven Eleven. Era molto contenta di come ero uscito fuori, ma non avevo una strategia chiara in mente di cosa farci, ma un po' con tutta la mia vita, ora che ci ripenso. È rimasto un po' lì, nell'hard drive, per qualche mese. Perché poi ho avuto l'opportunità di andare a New York, insieme a mio padre e mia sorella. Ho pensato, senti, sai che c'è? Io sarò lì l'11 novembre, Eleven Eleven. E comunque New York è la mia città del cuore, insomma, a meno che voi non siate appena arrivati. Ciao, sono Chiara. E ho vissuto New York per un periodo. E quindi l'ho messa su SoundCloud. Ecco, subito dopo, c'è stata un po' una mega batosta per me. Tornata da New York, sono andata direttamente di nuovo al castello di Santa Severa, sempre per Lazio Sound, dove abbiamo fatto un Lazio Sound Campus, ovvero un campus in cui hai le possibilità, innanzitutto, di conoscere gli altri ragazzi delle altre categorie e soprattutto la possibilità di confrontarti con varie figure di vario genere, quindi manager, discografici veri e propri, avvocati che si occupano di diritto dello spettacolo, produttori, musicisti, molte delle conoscenze che ho appreso lì, gratis, ripetiamo, gratis, tuttora mi sono utili. Però c'è stato un giorno particolare in cui ho conosciuto una certa figura, di cui ovviamente non farò il nome, sinceramente ho anche un po' rimosso, quindi non mi ricordo esattamente che cosa mi ha detto, però il senso era, vabbè, fai musica in inglese, quindi fai schifo, no, scherzo, fai musica in inglese, quindi quello che dici non è autentico, le tue canzoni non trasmetteranno mai niente, perché effettivamente tu non fai altro che nasconderti dietro una lingua che non è la tua, diciamo che l'ho presa molto male. Al tempo ho anche creduto che questa persona avesse ragione, perché tutti gli altri gli davano ragione, anche altre persone comunque mi vogliono bene e vogliono vedermi avere successo. E da lì è iniziato un po' anche il mio dilemma con come faccio a conciliare un pubblico, fra molte virgolette, che parla italiano e che proviene dall'Itale, con la musica che faccio io. Scrivete l'italiano, ci ho approvato il mio mondo interiore per tutta una serie di motivi che ora non stiamo a spiegare, perché sennò stavo dallo psicologo e non su YouTube. Risponde ad un linguaggio totalmente diverso, ma così come molti di noi, quando pensano, non pensano necessariamente in una lingua. Non è che tutti i nostri pensieri sono verbalizzati nella nostra testa. Allo stesso modo io penso un po' in italiano, un po' in inglese. Tutto il mondo che è legato alla sfera, diciamo, dei sentimenti e al modo in cui io esprimo i sentimenti, per me è in inglese. E a maggior ragione, se l'arte è imitazione, almeno all'inizio, e io fruisco solamente di musica in inglese o al 99% di musica in inglese, è chiaro che il linguaggio che ho imparato è quello. Ho detto, va bene, senti, sai che c'è? Non mi frega niente, non mi frega niente. Io scrivo così, la musica che faccio è questa. A un certo punto, ma chi se ne frega? Poi mi è arrivata questa telefonata che mi ricordava che fra i vari premi c'era anche la distribuzione di due brani e quindi ho detto, va bene, sai che c'è? 11.11 è pronta, secondo me è fatta bene, si merita di essere accessibile a tutti. E quindi ho detto, certo, volentieri, che bello, grazie. E veniamo ad oggi, perché ovviamente poi queste cose richiedono tempo, ho chiesto alla mia migliore amica Guendaina di farmi la cover art, che è meravigliosa. Se fosse stato per me, avrei aspettato altre 800 re geologiche, ma meno male che è successo, perché adesso sono tipo troppo emozionata, perché il 30 ottobre esce il mio primo singolo su Spotify. Non l'ho mai detta questa cosa d'alta voce. Che figa. Il 30 ottobre, il 30 ottobre 11.11 su Spotify. Spero più che altro che questo video possa ispirarvi a provarci qualsiasi cosa sia che voi volete fare nella vita. Provateci. Che ve ne frega. Provateci. Mi sono resa conto anche più che altro di quanto tempo ho perso nel autocommiserarmi, nel pensare tutta una serie di cose che mi bloccavano dal provare e basta. E niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non vi scordate di presalvare il singolo e di ascoltarlo il 30 ottobre 2020. Ciao!